Salve a tutti, eccomi! Let's go! Intanto che scarica Valhalla C'è ragionamento, no? C'è ragionamento? C'è ragionamento? ... Agh! ... non c'è un po' di più Poi ci faccio a rompere il pello C'è fatto No Da qua, è il capo Ma l'olio No, è il saltatore, è il saltatore E' il saltatore Niente No, bene, cambiamo il giochino Troppo difficile Vennex Vediamo come è Assassin's Creed Ancora 15 minuti Facciamo questo Copia Ricolla Ma c'è questo Questo c'è Cambiamo scena Cambiamo il giochino Ah, non si può ancora giocare Ok Ricambiamo scena Ah, niente E' scritto qualcuno No E' scritto qualcuno Ah, poi abbiamo questo Gioca con la musica Non so capace Copia Copia Colla Ah, non c'è neanche Ah, non c'è neanche Ah, lo mettiamo qua Ramentemos Ok Ok, cambiamo cosa Scena Avviamo Ah, non c'è neanche 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 Lui No, non stupi non mettiamo così ok no go no ti ho mi fichurissimo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.